Dopo un fruttuoso mondiale in Brasile, dove i Veneti hanno fatto incetta di medaglie contribuendo al secondo posto dell'Italia nel medaliere, ricomincia l'attività regionale della Federazione Italiana Karate con la seconda edizione del Trofeo Triveneto. Domenica 24 novembre sarà il Palazzetto dello Sport di Strana, Teatro della Gara, che coinvolge tutta la Regione Veneto e ospiterà atleti del Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Sono attesi 600 atleti che si affronteranno nelle varie specialità e categorie di tutte le età. La giornata comincerà con i più piccoli, forti di un grande pubblico formato da parenti e amici che affolleranno come sempre gli spalti. Siamo in continua crescita, dice un raggiante Stefano Savornian, presidente del Comitato regionale Veneto. In questi ultimi anni, nella nostra realtà, è la più importante in Veneto per numeri e partecipazione. Il nostro sport è sempre tra i preferiti dai giovani e dalle famiglie. Domenica le gare inizieranno alle 8.30 e si protrarranno per tutto il giorno fino a tardo pomeriggio. L'ingresso è libero.